ciao cosa stai facendo? io faccio i video una volta a settimana praticamente quell'unica volta tu devi fare casino grazie gentilissima allora voglio dirvi che da oggi probabilmente cambierà l'audio perché finalmente mi sono decisa a utilizzare il microfono quando faccio i video con la camera perché questa camera non ha l'attacco per microfono quindi non posso comprare un microfono esterno quindi il microfono in questo momento è collegato al computer di là e lo dovrò attendere in mano perché come chi segue le mie live sa ho rotto il microfono lo stand per il microfono ma non ho capito perché stavate uso il microfono perché l'audio è meglio ho usato l'obiettivo a focale lunga quindi vuol dire che è lontana la camera quindi già fa schifo di suo se poi la camera è a due metri non si sente niente perché questo mi piace anche l'autofocus anche perché oggi vi parliamo di una cosa molto importante questo obiettivo e questo obiettivo e questo obiettivo mi sarà utile perché oggi parliamo dello storyboard di What a Secret come avete... mi fai fare questo video? scusate mi prendi per favore gli storyboard che sono lì dentro e sono dimenticata di prenderli prima di cominciare il video no tu mi dai fastidio quindi io ti unisco in questo modo vabbè mentre lei sta per prendermi gli storyboard oggi parliamo degli storyboard di What a Secret come avete visto dal titolo ovvero voglio farvi vedere la differenza che intercorre tra lo storyboard che viene creato mesi prima della produzione viene disegnato tanto tempo prima e che servirà poi alla produzione e poi effettivamente il prodotto finito quindi la differenza delle inquadrature e anche del montaggio perché io quando faccio uno storyboard in quanto regista penso anche a come poi dovrebbe essere montato poi ovviamente viene... però vedi che sei scema c'è lo storyboard che vi faccio vedere oggi è quello dell'episodio 6 che tra l'altro è un episodio che è uscito proprio stasera quindi andatelo a vedere lo trovate in descrizione è l'episodio anche che c'è in copertina è un episodio molto particolare e se non avete visto... oddio ma qui è piegato il mio microfono poverino quindi se non avete visto gli altri episodi andateli a vedere tutti quanti trovate in descrizione il link proprio del canale e così li vi seguite tutti il sesto secondo me è il migliore che è uscito i miei preferiti sono il sesto e il secondo secondo me sono i più belli però il sesto particolarmente mi piace quindi andatelo a vedere trovate il link in descrizione quindi adesso poggio il microfono sulla mia gamba perché non ho modo di tenerlo ok? spero che mi sentiate bene comunque quindi adesso qui ho tutti quanti gli storyboard che come potete vedere non sono disegnati granché e io diciamo che non sono il massimo del disegno però diciamo che più che altro servivano a far capire alla troupe dove volevo inquadrare precisamente come vi dicevo quando si disegna uno storyboard dovete avere più o meno a mente poi quello che volete fare nel montaggio ovviamente lo storyboard si disegna ovviamente avendo a fianco la sceneggiatura che è la cosa più importante che un regista deve usare tipo non proprio come bibbia perché comunque la sceneggiatura un regista la può cambiare ma gli serve come punto di riferimento su cui puoi costruire le immagini se siete interessati a questa parte di preproduzione vi consiglio di seguirmi sul sito Viola delle Streaming mi chiamo Charlie Moon trattino basso perché ho iniziato adesso a fare live stream più o meno tutte le sere in cui utilizzo un programma fichissimo che si chiama Cine Tracer che appunto mi permette di fare queste cose ovvero ricreare gli storyboard in 3D che finalmente per una che non sa disegnare come me è una figata pazzesca quindi allora iniziamo a vedere lo storyboard che avevo pensato per questo episodio 6 la prima inquadratura sta scritto qua inquadratura episodio precedente perché essenzialmente c'erano delle inquadrature che andavano prese dall'episodio precedente visto che io sono molto pigra anziché ridisegnarle non essendo in grado di disegnare ho scritto direttamente inquadratura episodio precedente ecco ad esempio queste inquadrature non sono state messe né nell'episodio precedente né nel montaggio ma sono state utilizzate solo per il trailer che sono le inquadrature in cui Greta taglia gli alimenti che vedete nel trailer di Greta ok ho fatto una cosa che in genere non va fatta ovvero ho messo in manuale scusate in automatico la camera io odio girare in automatico giro sempre in manuale ma mi serve perché così quando vi faccio vedere i fogli la camera sistema automaticamente la luce altrimenti il sole era impossibile ho detto tutto questo col microfono dietro la schiena quindi spero si sia sentito ok andiamo avanti quindi la prima inquadratura già è stata tolta poi abbiamo la seconda inquadratura che è questa qua che era un primissimo piano primo piano di Greta dal frigo ecco questa è un po' cambiata l'abbiamo fatta ma è diversa perché qui non si vede la sua faccia si vedono solo le mani all'interno dell'episodio comunque prima di guardare questo video io vi consiglio di vedere l'episodio per non avere spoiler poi subito dopo abbiamo il dettaglio del timer anche questo è stato girato in maniera un po' diversa però l'inquadratura c'è poi abbiamo totale di Greta sul divano più close up che è questa cosa qui che vedete questo è stato girato il totale e anche il close up mi pare che io volevo si inserisse in un punto preciso però alla fine il close up non l'abbiamo utilizzato perché non serviva anzi abbiamo montato anche in maniera diversa perché in realtà prima del totale mi pare però non ne sono sicura devo riguardare l'episodio che ci sia prima questa qui che è stata girata invece esattamente come la volevo questa qui che è praticamente il dettaglio in top view di Greta che rigira il timer perché non ha voglia di aspettare il tempo che ha messo sette minuti poi però non ha voglia di aspettare e rigira il timer per farlo scattare prima e niente queste sono cose da Greta e poi di nuovo il primo piano di lei che prende il dolce dal frigo quindi questa scena è stata abbastanza rispettata prima della fine di questa scena c'è un'altra inquadratura ovvero questa qui che praticamente è Greta che mette i petali sopra il semidolce questa anche c'è ed è come la volevo io poi c'è scena 2 abbiamo un totale del pianerottolo di Greta che bussa questa è l'unica inquadratura della scena 2 ed è stata rispettata precisa identica anche in montaggio e poi subito dopo abbiamo un totale della casa di François più piano medio quindi abbiamo François e Willy che sono all'ingresso di casa di François solo che qui ad esempio non è stato utilizzato il totale che era stato girato ma abbiamo utilizzato solo il piano medio subito dopo abbiamo un mezzo busto di François che apre leggermente la porta e questo c'è ma è stato girato in maniera diversa perché c'è Greta invece di spalle è una inquadratura piuttosto diversa dal resto delle inquadrature perché chi ha notato il mio stile registico di questa serie è particolare non è il mio stile solito diciamo che è ispirato a un altro regista che molti di voi hanno capito e hanno detto nei commenti che è Wes Anderson e questa è un'inquadratura che un po' si distacca però non mi dispiaceva il concetto quindi c'è il mezzo busto di François che apre leggermente la porta c'è ma è girato in maniera diversa poi ci sono queste due inquadrature che invece per esempio non sono state proprio girate perché essenzialmente non era necessario anzi mi pare che il mezzo busto di Greta si sia stato girato ma non è stato utilizzato all'interno della scena di montaggio perché non serviva funzionava bene anche qui poi c'è l'inquadratura che probabilmente è la più bella di tutta la serie per come è stata realizzata praticamente adesso in questo momento François vede il semidolce di rose e ha una visione di Greta praticamente sommersa di petali di rose questa è una citazione a un film che non so se avete visto American Beauty abbiamo fatto questa piccola citazione ed è venuta molto carina e questa qui era come avevo disegnato l'inquadratura che voi vedete invece in copertina sia nell'episodio sia per questo video che è l'inquadratura veramente più bella di tutta la serie complimenti Shanti perché ha anche fatto molto bene la mimica facciale in questa piccola scena e questa era essenzialmente l'inquadratura che avevo disegnato io che non c'entra un cavolo con quella finale però per farvi capire più o meno poi infine abbiamo un mezzo busto di François che è in questo momento dentro casa e chiede dove è finito e questo è stato girato ed è stato anche inserito nel montaggio poi abbiamo una parte interessante che è la parte diciamo un po' più complicata di tutto l'episodio che per me immaginarlo e disegnarlo era difficile perché qual era la difficoltà in questo storyboard? essenzialmente questo storyboard per me è stato difficile perché la scenografia che è molto bella però a causa dei nostri costi limitati pensavo che la scenografia ti fosse girata a guardarmi perché a causa dei nostri costi limitati purtroppo anche la scenografia era limitata in un certo spazio quindi io non avevo diciamo molto spazio di manovra per inserire la camera ed è per questo che molti inquadratori sono simili perché appunto io non potevo mai mettere la camera dall'altro lato perché non c'era un altro lato e quindi per noi era complicato per me era complicato immaginare alcune scene un po' più complesse dal punto di vista diciamo registico in questa scena qui abbiamo una parte iniziale abbastanza semplice c'è un totale del tavolo che è stato girato con Greta e François seduti al tavolo quello c'è e poi abbiamo i loro due mezzi busti mentre parlano che ci sono entrambi anche questi all'interno dell'episodio poi successivamente doveva accadere una cosa un po' particolare ripeto se non avete visto l'episodio andatelo a vedere e poi tornate a vedere il video perché c'è uno spoiler allucinante adesso spoiler alert enorme praticamente adesso c'è Willy che sta per essere scoperto da Greta però François non vuole dire a Greta che Willy è ancora vivo e quindi decide di nasconderglielo in questo momento François però cioè Willy sta per essere scoperto da Greta che è perché la sta toccando e tutto Greta sta per scoprirlo allora François decide di spoiler alert enorme quindi siete ancora in tempo François decide di reinserire la gamba all'interno dell'orecchio di Willy questa scena era un po' complicata da far vedere da per far capire tutto quanto e quindi avevo disegnato questo totale più close up sulla cosa però non l'abbiamo girato perché ho trovato un modo diverso poi dopo successivamente sul set per girarla quindi abbiamo girato questa parte in cui François reinserisce la gamba della Barbie in orecchio di Willy e subito dopo cade quindi non abbiamo fatto vedere il corpo che cade ma l'abbiamo fatto intuire perché tanto comunque se vedi che Willy si accascia capisci più o meno cosa è successo la parte ancora più difficile che infatti è stata complicata molto complicata anche nella fase di montaggio era invece la parte di dopo quella in cui François acceca Greta perché Greta sta per abbassare lo sguardo e vedere il corpo di Willy per terra François non vuole che questo accada e quindi deve accecarla quindi cosa succede? praticamente François le ha fatto come sapete voi che avete visto l'episodio perché ripeto guardate l'episodio altrimenti mega spoiler François le ha dato la sua Polaroid per distrarla facendole credere che avesse una sorpresa e quindi usa il flash di questa per accecarla era difficile però far capire rendere questa scena in modo buono quindi praticamente qui abbiamo un dettaglio di François che prende la Polaroid subito dopo Greta sta per abbassare gli occhi quindi si vedono gli occhi di Greta che si abbassano successivamente gli occhi di François che si spalancano dal terrore e François che praticamente deve sta andando a cliccare poi scusatemi i disegni terribili però questo è il senso François che sta andando a cliccare poi la Polaroid per far partire il flash e infine abbiamo l'ultimo disegno che questa non è stata proprio girata perché è stata poi fatta in maniera diversa che è il mezzo busto di François che scatta verso camera perché il senso di quest'ultima inquadratura registicamente parlando è che François in realtà sta scattando verso lo spettatore che sta guardando però alla fine è stata girata in maniera diversa proprio perché non era fattibile in questo modo per vari motivi e soprattutto in montaggio è risultato un po' macchinoso e quindi abbiamo trovato un'altra soluzione quindi questo era tutto lo storyboard del sesto episodio avete visto come i miei disegni orribili si sono trasformati in delle inquadrature leggibili guardabili e soprattutto funzionanti perché molto spesso un regista nella fase di storyboard non si rende veramente conto di poi come potrebbero risultare insieme le inquadrature quindi è un lavoro complicato quello dello storyboarder infatti sono molto contenta che adesso questo programma Cine Tracer che mi aiuterebbe moltissimo per gli storyboard visto che non so disegnare almeno così riesco a rendere meglio sia la parte fotografica perché comunque è importante molto rendere più o meno come poi io voglio la fotografia e anche appunto la parte di storyboard perché così non dovrò più disegnare mai nella mia vita perché non sono proprio cioè se mi ci impegno un disegno carino lo faccio anche ma per farlo ci metto tre giorni quindi diciamo che gli storyboard devono essere veloci ed efficaci e se ci metto tre giorni a fare un'inquadratura WOS sarebbe a fare un'inquadratura